Queste manifestazioni sono molto importanti non solo per lo sviluppo del territorio, ma anche per dare risalto a delle realtà che da un piccolo centro come Agropoli possono poi prendere in là e farsi conoscere nel resto dell'Italia o magari andare oltre i confini nazionali. Io ho lavorato molto dietro le quinte questa sera perché essendo molto amico di Michele Gadiomonte che è stato il Couturier scelto e ospitato qui ad Agropoli, ho visto la manifestazione lavorando, però mi sono reso conto che era palpabile l'attenzione che c'era nei confronti delle persone che si sono esibite sul palcoscenico ed è sempre una vitrina importante che prende il largo qui per andare molto oltre. È un'occasione anche per le giovani stiliste emergenti per potersi mettere in mostra. Sicuramente è un primo momento che loro possono avere proprio per prendere confidenza con questo tipo di realtà nel senso che comunque cominciano a conoscere cosa significa fare una passerella e cosa significa avere a che fare proprio con il proprio prodotto che viene in qualche modo proprio promosso attraverso queste manifestazioni. Quindi sicuramente comunque un'esperienza formativa perché da lì si può partire poi anche per migliorare, per cambiare, per capire che cosa è piaciuto di più, che cosa mai è piaciuto di meno e sicuramente anche insomma qualcosa che può andare poi all'attenzione del pubblico perché chiaramente insomma abitando magari in un piccolo centro tramite la manifestazione anche insomma presenze che vengono da fuori come nel nostro caso e comunque siamo venuti da Napoli, certo non lontano, però in qualche modo insomma abbiamo potuto capire quali sono le leve del posto e magari interessarci noi abbiamo un blog che parla appunto di stile e magari possiamo comunque sicuramente ritornare su un personaggio oppure una sinistra che ci piaciuta di più per poi specificare non so qual è il suo lavoro, quali sono le sue caratteristiche e comunque insomma tramite internet poi magari vuol dire arrivare a tante altre persone. È stata una bellissima serata, molte, molte ragazze e modelle non ce lo aspettavamo, numeroso anche il pubblico e c'è stata un po' di stanchezza anche da parte delle ragazze però è stato un evento riuscito abbastanza bene. Prattutto ringraziamento sono gli abiti dell'Accademia Maria Mauro quindi realizzati da Maria Mauro quindi i complimenti vanno a lei perché una scenografia riesce non solo grazie alla coreografa ma anche agli abiti che fanno comunque la loro parte. Ricordiamo dove possiamo trovare gli abiti dell'Accademia Moda e Design Maria Mauro? Noi siamo al Corso Garibaldi a Napoli dove sta Porta Nolana nei pressi della Circo Vesuviana. Tommaso Scala ex tronista di Uomini e Donne presente per questo bellissimo evento dedicato alla moda organizzato dalla Emanuele Sicignano Management. Allora da te vogliamo una tua impressione ecco su questa manifestazione ma anche su Agropoli. Sicuramente la manifestazione è andata bene, mi sono divertito, ho trascorso un po' di tempo con Emanuele e Agropoli mi ha accolto credo ottimamente e mi sono divertito. Facciamo un saluto da parte di Tommaso Scala agli amici di Cilento Channel. Un saluto a tutti gli amici del Cilento Channel, un bacio. Emanuele Sicilio